Come vi siete incontrati? Raccontacelo. Ci siamo conosciuti al Cozzelli. Ciao. Ciao. È la tua roulotte? Sì, sono nella band. Ci esibiremo sul palco tra un'ora. August Mullen? Sì. Stasera ho incontrato qualcuno. Mi sento un po' ispirato. Questa si chiama Cosa. Solenne, vieni all'ingresso. Ok. Ci servi all'ingresso ora. Non so se ti ricordi di me, Alcocella. Sì, mi ricordo. Io ho un disperato. Bisogno di opere. Vogliamo iniziare con le ceramiche? Mi piacciono. Ah, fantastici. Questo quadro è della mia amica Sara. Come si chiama? Dischiudimi. E cosa provi quando lo guardi? Tutto. Che canzone è? Ah, non è niente, davvero. Mi piace. Sì? Sì. Sono vecchia per te. Non lo sei. Le persone cosa diranno? Non mi importa cosa dicono. Non pensavo che la mia felicità disturbasse così tante persone. Non ti aveva avvertita? Le persone odiano le donne felici. Cosa vuoi fare? È nuovo? No.